Nella speranza di vincere questi europei, stamattina sono andato in chiesa. Mi sono fatto l'insegne della croce e ho cominciato a pregare. Madonna Rumma mia, Madonna Rumma mia, tu che sei la mamma di Cristante, non puoi rimanere immobile dinanzi a uno dei tuoi pellegrini. Sì, sicuramente verratti a pregare anche Lino. Tu mi dirai, chi è Lino? Chi è Lino? È cugina di Lorenzo. Quella che teneva la sorella Bonucci, che quando da giovane le toccai quei seni ancora cerbi, meretta, meretta, meretta un buffo con la mano Mancini, che eri in manetto con mio fratello Giorginio. E Pessina, Pessina mamma, mi diceva sempre, moglie buoi dei paesi toloi. Ma oggi, dopo vent'anni, se si riguarda lo specchio e si chiede, chi è la più belotti del reame? Sai che risponde lo specchio? No tu? Che con quella pelle raspatore che ti ritrovi, anche se ti spalmieri un chilo di creme antirughe, a capa mia non sbarella più. Hai sempre fatto l'oca, telli, telli, tellisciate i meglio bastoni d'Italia, ma oggi siamo agli europei. E perciò, se la madonna rumma mia ci fa vincere, io le porto candele Florenzi e Pomombriac, sì. E invece della solita tazza di latte bernardeschi, mi bevo una grande birra alla spinazzola. Emerson, 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 tutte e notte, a Steven Dicea, Jukatur, l'Italia. Azzo.